Lo stacco con in vantaggio Max Ok all'attacco di Miguel WF, partito con molta prudenza, mago d'amore. Intanto si va all'imbocco della prima curva con Max Ok che passa in vantaggio davanti a Miguel WF, poi Mustang Griff, la quarta iniziale di Merck, io ho 26,8 per i primi 400 metri, Max Ok in vantaggio anche verso il finire della prima curva, ma c'è la mossa di Miguel WF, poi Mustang Griff, ancora mania all'esterno avanzo a mitico Miller, quindi il mordì da bar a largo Miele D'Alfa, siamo a metà della retta opposta delle tribune, Miguel WF al comando, Max Ok di rincalzo, la progressione di mitico Miller che si porta presso Miele D'Alfa, poi anche Madras in terza per l'esterno, gli 800 in 59, si va verso l'imbocco della curva conclusiva, è passato mitico Miller che va via a gambe elevate, il ritmo ora si è fatto molto selettivo, il chilometro è passato sul piede, io ho uno in corsa, all'esterno Miele D'Alfa, in corda Miguel, largo è Mago D'Amore, siamo a 400 metri dalla conclusione con in vantaggio mitico Miller, Miele che prova l'aggancio, la mossa in terza di Mago D'Amore, di dentro c'è Miguel WF, Mago D'Amore che si lancia su Miele D'Alfa, è in fuga mitico Miller, mitico in chiaro vantaggio, l'insegnamento di Mago D'Amore, Mago D'Amore che va su mitico Miller, il tifo è tutto per lui, Mago D'Amore, i bambini indiani potranno essere contenti perché il loro mago ha vinto un'altra volta, è tornato a vincere e lo ha fatto in una maniera